Oggi parliamo di Hardware 4 per Model Y in Cina almeno per ora poi sempre rimanendo in Cina altri sconti sempre per Model Y facciamo un paio di considerazioni e poi forse arrivano i Matrix anche per Model 3 e Model Y pre Highland a tra poco Bentornati a Lampi di Tesla edizione Texas, beh una puntata dovevo farla qui dal Texas dopo la prova del Cybertruck ma cominciamo subito Model Y a oggi in Europa e in Cina non aveva ancora montato Hardware 4 che invece troviamo su Model 3 Highland ecco che arriva la comunicazione ufficiale di Tesla che dice appunto che in Cina quantomeno per ora Model Y monterà Hardware 4 cioè l'evoluzione dell'hardware per Autopilot e tutti i sistemi di sicurezza che abbiamo sulle nostre auto quantomeno che io ho sulla mia che cosa vuol dire? Che probabilmente anche le Model Y prodotte a Berlino a breve avranno Hardware 4 vi ricordo che comunque in Europa vengono commercializzate solo Model Y prodotte a Berlino quindi in Germania non ci resta che aspettare rimaniamo in Cina e rimaniamo su Model Y perché nonostante sia l'inizio del secondo mese del trimestre quindi di solito Tesla non fa particolari sconti in questo periodo continuano gli sconti sempre per Model Y per ora solo in Cina facciamo qualche considerazione? beh questo mi porta a pensare che effettivamente potrebbe arrivare un qualche restyling di qualsiasi genere magari prima di quanto mi aspettassi non è detto io non mi aspettavo niente prima dell'estate magari sarà così, magari sarà l'anno prossimo o magari potrebbe essere già nel Q2 quindi questa è una valutazione ovviamente personale magari devono solo cercare di vendere un po' di inventory che è avanzato ma senza un particolare motivo chi lo sa? comunque sappiamo che per ora in Cina stanno scontando nuovamente Model Y e torniamo a parlare di Fari Matrix perché dopo l'aggiornamento che abbiamo visto il 2024.2 per la Model 3 Highland che quantomeno parla di Fari adattivi abbiamo visto anche qualche video è uscita oggi l'omologazione in realtà firmata il 3 gennaio in Europa per l'abilitazione dei Fari Matrix anche per Model 3 e Model Y precedenti quindi non ci resta che aspettare il software e ora passiamo ai saluti e ai ringraziamenti e comincio con Stefano che ha voluto supportare il canale mi ha scritto un piccolo supporto al canale per complimentarmi per la passione e la professionalità che ci mette grazie ai lampi e al forum ovviamente teslari mi ha fatto veramente appassionare al mondo Tesla che non è solo auto ma è un modo di concepire il futuro mi piace questo punto di vista grazie e grazie davvero per il supporto e un grande saluto anche a Fabio che non mi ha scritto niente ci siamo sentiti su altri canali però ha voluto anche lui supportare il canale e poi un saluto anche a Paolo che ha ordinato oggi la sua Model Y nuova utilizzando il mio referral e quindi avrà tre mesi di autopilot avanzato gratuito mi raccomando mandami la foto quando ti arriva l'auto bene questo è tutto per oggi io vi ringrazio come sempre e dal Texas ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.